Maurizio Cantello, segretario della FIOM, CGL, incontro con il prefetto, presidio dei metalmeccanici, qual è la situazione in provincia di Alessandria? La situazione in provincia di Alessandria è preoccupante come lo è del resto su tutto il territorio nazionale, abbiamo a rischio circa 2000 posti di lavoro, in primis una crisi che ormai è decennale, che è quella dell'ex silva di Novi Ligure, l'acciaieria d'Italia, abbiamo dei cali dal punto di vista produttivo, li registriamo su tutto il settore del freddo nel casalese e soprattutto ci sono dei ritardi importanti, preoccupanti rispetto a quella che è la riconversione dal punto di vista energetico, dal punto di vista della transizione. Il prefetto vi ha accolto stamattina? Assolutamente sì, la prefetta ha dato la totale disponibilità comprendendo le difficoltà che abbiamo esposto e già da domani trasmetterà tutto a livello ministeriale rispetto alla sofferenza che il territorio alessandrino sta portando avanti.